E' giusto che sei emozionante, è giusto. Ma sei pronta a cantare? La Giulia è tutta orecchia. Sei pronta? Che cosa ci farai ascoltare? Io mi inlongando, questo microfono come è questa storia? Vogliamo parla? Sarà spento. E' spento? Aspettaci che la persona... Ecco la cosa. Ci sei? Allora, io mi inlongando. Facciamo un applauso a Darcieri Giulia. Vai Giulia! Allora, non caia, non lo credo. Non può toccarlo. Non caia! No, non lo ha detto, non lo ha detto, non lo ha detto. E' seguito? Sono stata anche io, Marina, di mio padre, innamorata. E' seguito? Allora, non lo ha detto. E' seguito che la persona è un'esame. E' seguito che la persona è la mia. E' seguito che l'ai detto. E' seguito? a quell'età, quando nasco come famiglia, ma quelle ammette ostiliche, che ti perdono tra un cinema, a sognare e andare via, pure il primo che ti capta e che ti dice una la logia dai uomini, non cambiano, non cambiano, non cambiano, non cambiano, non cambiano, non cambiano La prima vince gli uomini si uccidano e poi a me c'erano a ridere di sì. La prima vince gli uomini si uccidano e poi a me c'erano a ridere di sì. La prima vince gli uomini si uccidano e poi a me c'erano a ridere di sì. La prima vince gli uomini si uccidano e poi a me c'erano a ridere di sì. La prima vince gli uomini si uccidano e poi a me c'erano e poi a me c'erano a ridere di sì. E poi a me c'erano a ridere di sì. La prima vince gli uomini si uccidano e poi a me c'erano a ridere di sì.